E' ancora lotta tra i residenti del quartiere Cascinetto e il centro sociale Cavarna. I primi pronti a far valere il proprio diritto alla tranquillità, i secondi a organizzare feste estive a suon di DJ set e musica dal vivo. Una diatriba che prosegue da tempo, un convivere difficile nel mezzo del quale si ritrova il comune. L'ultimo fronte di scontro è la festa Switch dei Inputs, che aprirà i battenti proprio questa sera e si protrarrà fino a domenica. Un evento che gli abitanti dei palazzi che confinano con il centro sociale, che ricordiamo occupa i locali comunali del Cascinetto, temono non solo per il rumore ma anche per i problemi di ordine pubblico, visto che gli organizzatori avrebbero dato la possibilità ai partecipanti di campeggiare nella zona. Insomma, il quartiere è in subbuglio, il comitato che lo rappresenta ha condensato tutto il proprio disappunto in una lettera ufficiale indirizzata al sindaco. In soddisfazione e rabbia sono i sostantivi che vengono utilizzati nel documento per descrivere lo stato d'animo dei residenti rispetto agli eventi notturni organizzati dal Cavarna. Lo scorso 26 maggio, scrivono i referenti, l'ennesimo evento è durato sino al mattino seguente, disturbando gli abitanti e rendendo impossibile il riposo notturno. Le forze dell'ordine allertate non sono intervenuti ai residenti, sono inermi di fronte ad una situazione ingestibile e si sentono ignorati. Ora siamo preoccupati per quest'ultimo evento e dalle informazioni raccolte attraverso i volantini si parla di un DJ set a partire dalle 24 e si indica anche la possibilità di campeggio. Ma ci chiediamo quali permessi siano stati forniti per permettere un bivacco di giorni in un'area residenziale non attrezzata a garantire le minime condizioni igieniche. La lettera si conclude con la richiesta l'ennesima all'amministrazione di un intervento immediato.